L'odio verso il populismo è diffusissimo all'interno, non si crederebbe, ma all'interno dei Cinque Stelle. Questo è abbastanza sorprendente in effetti, è abbastanza sorprendente. Un emergente amore per esempio verso i sindacati, un ripudio totale del neoliberismo e così di seguito. Ora, queste rotture che ci sono dentro il movimento partito sono proprio un'ultima scaramuccia tra quelli che sono diventati partito, lo sono già tutti gli effetti e quelli che non lo sono ancora e forse non lo diventeranno mai. Per cui io credo che probabilmente ci sarà un ulteriore salasso da parte del movimento che ha perso molti suoi consensi durante l'accoppiamento con Salvini, che gli ha rubato un 15% dei consensi e ora perderà un altro poco dall'altro lato. Ma avrà un riflesso parlamentare nel senso che può arrivare addirittura sul MES una questione tale da coagulare tutti i malumori fino ad aprire una crisi. Oggi ricordo che ci sono tutti i segnali arrivati anche dal Quirinale di preoccupazione, visto che fa uscire che addirittura ci sarebbe il voto. No, non credo proprio che sia la crisi, anche perché quelli che escono è per un eccesso diciamo di legame con il movimento, non per una carenza di... Quelli se ne sono andati con Salvini, quelli che avrebbero fatto la crisi. Dario Di Vico con...